Non riuscivo a dire no e ad oppormi. Sarebbe questa una delle frasi contenute nei messaggi scambiati tra la studentessa italo-norvegese e la sua amica norvegese nelle ore successive al presunto stupro di gruppo denunciato dalla studentessa, che vede sul banco degli imputati per il reato di stupro del gruppo Ciro Grillo, figlio di Beppe, comico genovese e fondatore del Movimento 5 Stelle, insieme a tre suoi amici genovesi Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 e sarebbero avvenuti nella villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo. La ragazza, assistita da una traduttrice, ha deposto in inglese il riferito dei messaggi ricevuti dalla presunta vittima della violenza di gruppo nell'aula del Tribunale di Tempio Pausania, rispondendo alle domande del procuratore Gregorio Capasso e del pool di avvocati della difesa. È stata la seconda delle due udienze programmate, incentrate sulla deposizione dei testi dell'accusa. Sul banco dei testimoni si è seduta la migliore amica norvegese della studentessa, che denunciò lo stupro ai carabinieri di Milano dopo il rientro dalla Costa Smeralda a fine luglio del 2019. Tra le due c'è stato un numeroso scambio di messaggi nelle giornate successive alla presunta violenza di gruppo. Messaggi e registrazioni vocali che sono entrati all'interno degli atti del processo e che i periti tecnici hanno estrapolato dal cellulare della presunta vittima, posto sotto sequestro dopo la sua denuncia. L'udienza ha visto solo la deposizione in inglese della ragazza norvegese, che è stata affiancata da una traduttrice.